È venuto a trovarci Gianmarco Carroccia perché domenica 1 dicembre, ore 18, ci sarà un'inaugurazione Studio 1 che rimanda naturalmente ai vecchi programmi della RAI con Mina, Don Lurio, che ha visto tutta la musica e il cinema italiano protagonisti negli anni 60. Che cos'è invece questo tuo Studio 1? Noi con lo Studio 1 abbiamo cercato di creare una sorta di luogo di culto della musica, in particolare quella italiana, che a mio parere non è da meno rispetto a quella straniera, a differenza di quello che molto spesso si sente dire. Io ritengo che la musica italiana abbia un grandissimo patrimonio, in particolare quella che va dagli anni 60 e 70, e noi da ciò abbiamo cercato di farne tesoro e creare questa sorta di luogo di culto dove appunto protagonista di tutto è la canzone, in particolare appunto quella italiana. vista attraverso le sue diverse fasi, che sono la composizione della melodia, per poi procedere alla scrittura del testo sulla melodia, dall'arrangiamento, l'incisione in studio e l'interpretazione, che è una parte fondamentale, in quanto si cerca appunto di interpretarla nel migliore dei modi comunicando un'emozione all'ascoltatore. E qui avremo anche un nome abbastanza importante, che si occuperà sia di fare dei corsi di interpretazione, che sia proprio di dare una mano agli artisti che verranno da noi per cercare appunto di impostare la voce in un determinato modo, che è Tania Tucci Nardi, che non serve nemmeno presentarla, molto conosciuta nel nostro comprensorio, e anche a livello nazionale in quanto collabora con un grandissimo artista che è Riccardo Cocciante. E da qui, come ti dicevo, la canzone poi c'è l'interpretazione, per poi finire con il confezionamento del prodotto finito, che può uscire su diversi supporti, tra cui il compad disco e il vinile, che ultimamente sta tornando molto prepotentemente sul mercato italiano. Un luogo creativo a tutto tolto. Sì, assolutamente sì, il nostro obiettivo sarà anche quello di creare proprio una sorta di grande famiglia, con tutte le persone che ne faranno parte, con lo scopo innanzitutto di sensibilizzare la cultura popolare e di sviluppare un senso di autocritica in ogni singolo artista, in modo tale da portarlo a valutare oggettivamente il proprio lavoro, che è una cosa fondamentale nella musica. In ogni caso, tanti servizi offrite? I nostri corsi sono i corsi di autore di testi, di composizione, di interprete, di arrangiamento, e poi abbiamo il servizio di recording studio, di sala prove, speakeraggi, incisione, voce su base, confezionamento del prodotto, come dicevo prima, grafiche, masterizzazione CD, incisione su vinili. Ci sarà un bel po' da fare. E allora, l'appuntamento è per domenica, non bisogna mancare? Sì, invito tutta la cittadinanza e tutti i cittadini delle zone limitrofe a venirci a trovare. Vi aspettiamo domenica, primo dicembre, alle ore 18, corso a Pio Claudio numero 76, studio 1.